Sapevo che sareste venuti. Seguite il fuoco come faline. Oh, da quanto tempo volevo che tu ne fossi testimone, Alex Strasa. Questo albero del mondo, il cuore del suo grande potere, colmo di ombra e fiamme. Ma ora che tu e i tuoi campioni vi siete radunati, perché aspettare? Dovrei uccidervi ora! La sconfitta di questa regina infida sarebbe una gloriosa battaglia. Ma il piano, Firak, ricorda il tuo brillante piano per piegarli, e poi spezzarli. Apri la strada verso il Tempio. E così l'albero sarà tu. Sì. E quando avrò preso ciò che mi spetta? I miei nemici periranno nelle fiamme! Sì. 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 Sì.